caro babbo natale abito in una nazione che assomiglia ad uno stivale e ho capito quindi perché come dice mio papà per lavorare ci vogliono i calci nel culo quest'anno credo di essere stato bravo infatti non ha invaso nessuna nazione per l'egemonia petrolifera tu devi certamente avere un sacco di euro anche perché altrimenti non si capisce come farai a portare la mole di playstation 3 che ti hanno chiesto nelle altre letterine io non ti chiedo molto magari come dice mia mamma chiedi a babbo natale se ti manda un vaglia altrimenti non potremmo accendere il gas per cucinare le pietanze del cenone semmai le potremmo comprare non ti chiedo la pace nel mondo perché la tranquillità servirebbe solo a far incazzare qualcuno e a far scoppiare una guerra civile da qualche parte ti chiedo solo se è possibile un piccolo valore da grande voglio fare il dottore quindi fa in modo che le cause fornoaceutiche continuino ad essere lobby e non vediamo medicinali contro la ids nei paesi poveri e soprattutto fai sì che nessuno tiri fuori una cura per il cancro altrimenti come faccio a passare dal settore pubblico al privato a diventare migliorario entrare in politica ed essere presidente del consiglio ti mando un forte abbraccio caro babbo natale e ti auguro tanta felicità e serenità nel tuo unico giorno di lavoro perché pure tu come a tutti sei un lavoratore co 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 a progetto ho 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 buon natale a tutti a di o oh ah 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 Grazie a tutti.